Grazie, Presidente. Colleghi, colleghe, Governo. Purtroppo mi costa, Presidente, essere qui per richiedere con urgenza estrema e massima un'informativa del Ministro Piantedosi e, se me lo consente, Presidente, anche da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché abbiamo assistito per l'ennesima volta a degli episodi che in questo Paese non dovrebbero esistere e accadere più, ovvero l'aggressione del giovane giornalista della stampa, Andrea Jolie, che è stato malmenato da militanti di Casa Pound per strada, semplicemente perché stava assolvendo la propria funzione di giornalista. Ora, visto che il clima, Presidente, in questo Paese, rispetto alle inchieste della stampa, sta precipitando con una gravità estrema e, purtroppo, dobbiamo segnalare per l'ennesima volta il completo e totale silenzio da parte della Presidente del Consiglio, da parte dei Ministri preposti. Noi crediamo che sia urgente per ripristinare il clima di democrazia in questo Paese che si intervenga con celerità allo scioglimento di Casa Pound, perché l'apologia del fascismo, colleghe e colleghi, lo ricordo a tutte e tutti, fa parte dei nostri principi costituzionali. E visto che questo non è il primo, purtroppo, episodio, e visto che c'è tutto un comparto che è quello della libera stampa, che negli ultimi mesi più di altre fasi della storia di questa Repubblica vive con preoccupazione quello che sta accadendo, le chiedo di intercedere, di sollecitare per suo tramite un intervento immediato e risolutivo che faccia finalmente chiarezza su quanto sia fondamentale e importante la libera stampa, l'inchiesta giornalistica e soprattutto come in questo luogo nessuno, senza distinzione di parte, può tollerare una aggressione squadrista in questo Paese. Grazie. Grazie onorevole Ricciardi. Ovviamente per entrambe le richieste ci facciamo parte diligente rispetto alla Presidenza.